Pronto? Scusa, non ho sentito che hai detto. C'è l'imbarazzo della scelta. Allora, da dove che vieni? Da Pisa. Da Pisa? Pisa a Pisa Cascina. Siamo in totale pianura. E qui c'è il paradiso. Sin qui con te. Cos'è la Damello sin qui, i primi 20 chilometri per te? Batti cuore, perché ho paura dei cancelli, però ne vale la pena. Batti cuore, bellissima definizione. Questa è Cristina Montagnani, a Damello, Ultratrail 2022. E questo è un toscano. Toscanaccio di? Eccolo. Luca Linari, sì, sono toscano. Pisano pure tu? No, lucchese, ma mi ha convinto lei. Ma è meglio Pisa o Lucca come città? No, Lucca, ma non si discute neanche. No, Lucca. È meglio la Damello, bisogna venire a vederli questi panorama. L'Italia è tutta bella. Luca, Pisa, Damello non conta. In bocca al lupo e dentro. Buon viaggio!